Dopo qualche mese di stallo in cui stavamo tutti tirando un sospiro di sollievo, effettivamente negli ultimi giorni c'è stato un incremento di casi legati per lo più a persone che erano state all'estero. Si allarga ancora il focolaio di coronavirus in Valdarno. Sono infatti altri otto i casi collegati al gruppo di giovani neodiplomati rientrati da Corfu in Grecia dopo aver trascorso le vacanze estive. Si tratta di 7 diciannovenni, 6 di Montevarchi ed uno di Laterina Pergine. A loro poi si aggiunge la mamma di uno dei ragazzi, 50enne di Montevarchi. Quattro loro coetanei erano già risultati positivi nei giorni scorsi. C'è poi anche un nono caso che riguarda un altro diciannovenne residente ad Arezzo, anche lui di ritorno da una vacanza a Corfu ma non con lo stesso gruppo. Tanto la vacanza all'estero magari andrebbe per il momento limitata a casi effettivamente di necessità. Andare all'estero è comunque un rischio e quindi cercare al momento di avere delle precauzioni e quindi evitare se possibile di allontanarsi. Quando si rientra comunque è necessario registrarsi tramite un modulo online che si trova sul sito di Regione Toscana o anche della nostra azienda e quindi inserire tutti i propri dati all'interno di questo modulo in modo che noi come Dipartimento della Prevenzione vediamo queste persone, chi sono, le contattiamo e gli facciamo una richiesta di tampone. Tutti i nuovi contagiati sono in buone condizioni di salute e già in isolamento domiciliare. i ragazzi avrebbero raccontato di non aver usato mai o quasi mai la mascherina in vacanza. Le raccomandazioni della ASL sono quelle di mantenere, seppur capisco la fatica, il caldo, la voglia di liberarsi di questo pensiero, ma mantenere possibilmente tutte le precauzioni che ci sono sempre state insegnate, quindi la mascherina, il distanziamento, la disinfezione delle mani, il gettare i propri fazzoletti in contenitori chiusi, quindi evitare contatti con le altre persone, tutte le raccomandazioni che ci sono sempre state dette e che è opportuno mantenere, sebbene in una situazione di maggiore tranquillità, proprio per evitare di ripiombare nella svecchia problematica.